dimmi che hai ottenuto qualcosa abbiamo già perso tanto sull'isola a causa del cromo non mi stupisce visto il comportamento del campione mai vista una cito cinesi così accelerata inizio da credere che sarà un problema via di qui non finirà così integrità questa compromessa deve esserci un modo per rimediare allineamento alla realtà la sei chingret nommi